Le cronache di questi anni ci hanno abituati a ladri sempre più spregiudicati, pronti ad entrare in casa anche se ci sono dentro i proprietari. Ma per un malvivente più tradizionalista che per entrare aspetta che la casa si liberi, Ferragosto rappresenta uno dei momenti ideali per svolgere la propria professione. A Pianezze il sindaco ha messo in guardia i propri compaesani dopo che si sono notati strani fenomeni verificarsi nei giardini. Gli alcune famiglie mi hanno segnalato che trovano spostate le sedie del giardino, trovano spostati i vasi dei fiori, il tavolo dove era non è più al suo posto e questo è un chiaro segnale che qualcuno di notte probabilmente li ha spostati per vedere se c'è qualcuno in ferie o se è a casa qualcuno. Non si tratta di un allarme campato in aria, esistono dei precedenti precisi tutt'altro che rassicuranti. Io ho avuto un furto due anni fa, anzi due furti in abitazione nello stesso mese due anni fa e non avevo notato che un vaso da fiori che generalmente è in mezzo al giardino era davanti alla porta di casa che ostruiva il passaggio per entrare in casa. Su Facebook ho postato questo avviso che è stato condiviso e ho avuto i ringraziamenti di moltissima gente, ho avuto i ringraziamenti anche delle forze dell'ordine perché hanno trovato il sistema migliore il fatto che tanti cittadini siano allertati e ci aiutino segnalando movimenti sospetti, macchine sospette perché la tempestività è la migliore arma contro questo tipo di situazioni.